Quando parti sempre di rincorso, dopo è sempre difficile tenere il passo, soprattutto con una squadra così buona. A maggior ragione se concedi così tanto spazio a dei giocatori così forti, è chiaro che segnano, fanno canesso e dopo diventa sempre più duro recuperare. È stata una partita bella, in un Flaminio veramente gremito, spettacolare. Secondo me è di buono, possiamo portarci dietro da questa partita la reazione che abbiamo avuto. Da quella dobbiamo ripartire per cercare di cominciare da subito le partite con quel piglio, per giocarcela alla pari con tutte e non sempre partendo di rincorso. È chiaro che il nostro obiettivo è dichiarato alla salvezza, sarà un obiettivo difficile, però per noi ogni partita dovrà essere come una finale, perché dobbiamo assolutamente portare a casa i due punti il più spesso possibile e giocare veramente come se ogni partita contasse di più di quei due punti, come se ogni partita contasse la salvezza. Quindi ogni domenica cercare di aggiungere un pezzettino per arrivare tranquilli poi a maggio, quando sarà, con una posizione ben consolidata, senza rischiare di incappare nei play-out che sono sempre una cosa che è veramente molto molto rischiosa. Un grande orgoglio perché rappresentare una piazza così importante in un momento così di rinascita, come dice anche il nome stesso della società, è veramente molto importante. Gratitudine verso la società che comunque ha trovato in me questo ruolo. Sicuramente anche tanta responsabilità per cercare di guidare i miei compagni nella direzione giusta, cercare di rappresentare in campo quelli che sono i valori della società. Grazie. Grazie.